sempre su calci piazzati. Dalla classifica sono scomparsi tre zeri, due li hanno cancellati l'Acragas e il Monopoli che hanno centrato i loro primi successi piegando di misura la regina e la casertana. Il terzo zero è scomparso dalla casella delle sconfitte, infatti non è più imbattuto il Cosenza che come stanno documentando le immagini ha perduto con un barletta che sul proprio terreno marcia col passo della grande. Forse la formazione diretta da Montefusco ha cercato con eccessiva disinvoltura di rimontare lo svantaggio procurato dalla rete di Alivernini alla mezz'ora e così pur giocando in trasferta i calabresi hanno incassato con il più classico dei contropiedi il gol del KO. Nel gruppone delle seconde si è inserito il Foglio che è un acero inferiore a conquistare il Foglio.